Se hai o hai avuto la sfortuna di lavorare per un capo narcisista sai bene quanto possa essere difficile conviverci e anche hai ben chiaro quali possano essere i danni che provocano e che ripercussioni possono avere sulla tua vita. E magari ripercorrendo la tua storia in azienda o al tuo posto di lavoro ti rendi conto di quanto tu possa essere rimasta o rimasto affascinato dal tuo capo perché una cosa che sanno fare benissimo è fare delle impressioni, le prime impressioni fantastiche sembrano vincenti, molto capaci, con grande talento, con grande determinazione riescono sempre ad ammaliare le persone che hanno di fronte. Alla fine però ti rendi conto che quello che è stata la prima impressione non ha nulla a che vedere con la capacità reale di comando o di gestione del gruppo di lavoro dell'ottenimento degli obiettivi dell'azienda che ti eri immaginato o immaginata prima. Anzi, a volte pensi proprio che in fondo siano proprio incompetenti. E allora come puoi individuare se hai un capo narcisista? Diciamoci alcune caratteristiche molto semplici. La prima caratteristica è che sono tutto chiacchiere e niente azioni. Se tu ascolti il loro racconto, ti dicono quello che fanno, rimani completamente sballordito, ammaliato. Nel momento in cui tu li vedi all'azione ti rendi conto che non fanno nulla. Almeno non fanno nulla di quello che dicono quando si presentano. Si comportano in maniera completamente diversa. Non hanno la capacità di comando. La seconda è reagiscono fortemente agli stimoli esterni. Tre sono veramente fenomenali nello scansare qualsiasi tipo di responsabilità. Non raggiungono gli obiettivi. Hanno già un'idea su chi eventualmente incolpare. O come spiegare il fatto di non essere stati in grado di raggiungerli. L'importante è che ne escano bene. Quattro, non hanno rispetto per le relazioni, per i limiti degli altri. Molte volte trattano male i propri collaboratori o i propri dipendenti. E a volte, oltre ad essere offensivi o trattare in maniera arrogante queste persone, gli chiedono anche di fare cose che vanno oltre a quello che è il proprio orario di lavoro o i propri compiti in modo tale da soddisfare in quel momento quel bisogno che hanno. 5. Mancano completamente di empatia. All'inizio pensavi che fossero persone fantastiche. Dopo averli conosciuti e frequentati o essere stati al loro ordine per un po' di tempo, ti rendi conto che può capitarti qualsiasi cosa nella vita che a loro non importa assolutamente. Ti offendono, ti trattano male, ti fanno fare cose che in quel momento non ti competono. Non hanno nessun problema perché loro non sentono nulla di quello che tu provi in quel momento. Se lo sentono, è un'empatia di tipo cognitivo per cui la sfruttano per ottenere quello che vogliono da te. Non per aiutarti a superare un momento difficile o per incoraggiarti a superare un impasse. 6. Sono estremamente sensibili alle critiche. Apparentemente sembrano persone che accettano di avere dei consigli, dei suggerimenti da parte dei propri collaboratori. In realtà ti rendi conto dopo la prima volta che suggerisci un cambiamento che non è la cosa che puoi fare. Perché ogni volta che tu suggerisci qualcosa che non è gradito al tuo capo narcisista, lui diventa aggressivo e ti attacca e ti sminuisce di fronte a tutti. 7. Ti rendi conto che la sua legge è o con me o contro di me. Cioè chiunque non gli manifesti ammirazione, devozione o fedeltà è sicuramente per lui o per lei un avversario, un nemico da combattere e da distruggere. E su quello sono inflessibili. Però un capo o una capo narcisista creano veramente un brutto ambiente e molto spesso creano anche una fuga da parte dei propri collaboratori dal posto di lavoro perché l'ambiente diventa così velenoso, così tossico, che non si riesce a sopportare. E quindi le persone si ritrovano costrette ad abbandonare il proprio posto di lavoro e a cercarsi qualcos'altro. E molte volte questo comporta anche molta fatica e una spesa, un costo personale molto alto per colui o colei che deve lasciare il posto di lavoro. Allora sottolineiamo proprio dei tratti molto forti che sono il primo che quando hai a che fare con un capo narcisista si prenderà sempre il merito dei successi e non si prenderà mai la responsabilità dei fallimenti. Passerà molto tempo delle sue giornate lavorative a raccontare di quanto è stato bravo, di quanto è stata brava, dei successi che ha raggiunto e a volte si pavoneggerà con altre persone dei successi, dell'idea, del progetto che sta portando avanti sapendo benissimo che tu hai precisa conoscenza delle cose e quindi sai che lo stai portando avanti te ma il merito se lo prenderà tutto lui perché per loro è importante apparire vincenti e di successo. Questo va oltre la realtà dei fatti però è anche vero che sono talmente attenti a questo aspetto che il proprio collaboratore, il proprio dipendente cercherà sempre di presentare delle idee, dei nuovi progetti come se fosse veramente un'idea del capo o della capa per farli passare e quindi questo favorisce il fatto che proprio se ne appropriano di quelle idee perché la seconda caratteristica è che sono vendicativi e non accettano mai le critiche. Sai bene quanto sia difficile portare un minimo cambiamento a quello che si sta facendo o che ha deliberato e sai benissimo che se tu metti in luce una difficoltà che possa avere sbagliato o che abbia fatto qualcosa che non va bene sai benissimo di quanto possa essere feroce la sua replica e di quanto possa umiliarti di fronte alle altre persone, ai tuoi colleghi quanto possa mettere in luce anche dei tuoi difetti che non c'entrano con quella situazione magari cose che hanno compromesso il vostro rapporto vengono portate pubblicamente anche se erano private e sai anche che da quel momento probabilmente sarai presa di mira e che possono anche demansionarti, toglierti dei lavori che stai facendo anche ottimamente tutto per punirti, per aver avuto il coraggio, l'ardire di dire qualcosa contro quello che loro stanno facendo. Questo crea un clima di terrore all'interno del gruppo di lavoro che non permette ovviamente uno scambio normale, equo e proficuo. Terzo aspetto non ha proprio rispetto dei tuoi limiti, del tuo lavoro cercherà sempre comunque di intromettersi nelle cose che fai potrebbe anche chiederti di fare cose che non c'entrano nulla o che peggiorano i tuoi risultati ma lo farà spesso e ti chiederà di far cose in più o di andare il giorno di festa o comunque di essere presente a quella riunione o di non essere presente a una riunione in cui tu hai veramente un ruolo importante e non ha rispetto per il tempo delle persone che lavorano perché magari durante tutta la giornata non ha fatto nulla è stato spesso dalla macchina del caffè è uscito a pranzo con qualcuno però quando torna indice una riunione e se anche sono le 5 ed è finito il tuo orario di lavoro ti obbliga a fermarti perché in quel momento lui non ha nulla da fare o lei non hanno nulla da fare e quindi tu devi assoggettarti ai loro ritmi e non hanno nessun tipo di attenzione al tuo tempo libero, al tuo tempo personale questo a loro non interessa assolutamente anzi, in maniera un po' sadica a volte traggono anche soddisfazione un po' di rifornimento narcisistico dal poter esercitare una forma di potere così sui propri dipendenti se hai la sfortuna quindi di avere un capo o una capa narcisista fai veramente molta fatica nel tuo ambiente di lavoro ed è difficile confrontarsi con loro o avere un miglioramento perché generalmente siccome stanno molto attenti a tutte le dinamiche di potere e cercano sempre di scalare la propria posizione e di ottenere sempre un posto che per loro rispecchi di più il loro valore che per loro è sempre qualcosa di fantasticamente elevato tutto questo ti renderà la vita molto difficile mi dispiace dirlo ma non basta dare dei limiti perché a volte non riescono a tollerarli anche se è molto difficile avere a che fare con persone così il non prendere tutto come un fatto personale potrebbe esserci d'aiuto cioè capire che queste sono dinamiche che metteranno sempre in atto per ottenere ciò che vogliono e avere un'istruzione cioè sapere come si comportano prevedere il loro comportamento che è sempre molto schematico è sempre uguale e se io gli dico una cosa reagirà sempre in quel modo se io faccio quell'altra cosa reagirà in un altro modo è molto prevedibile potrebbe essere d'aiuto nel cercare di sopravvivere certo la soluzione potrebbe essere quella che queste persone o cambiano il loro posto di lavoro oppure che i dipendenti si cerchino un posto in cui c'è un capo o comunque dei collaboratori meno dannosi per la propria serenità se questo video ti è stato utile puoi lasciare un like e se ti interessano questi argomenti iscriviti al canale dove ci sono altri video che possono interessarti e se hai delle storie, delle esperienze, dei suggerimenti che vuoi condividere con gli altri membri della community iscriviti qua sotto nei commenti iscriviti qua sotto nei commenti ok